Ognuno ha dei desideri. Il mio è stato sempre un desiderio strano. Mi sarebbe piaciuto fare il sindaco di Arco. Ma perché non l'ha fatto? Non l'ho fatto per varie ragioni. Per la verità mi è stato proposto. La prima proposta mi era stata fatta dalla democrazia cristiana. Vennero a casa mia, mi proposero la candidatura, però in giunta avrebbe dovuto venire una persona alla quale io non… non è che mi fosse antipatico, anzi per la verità mi era antipatico, ma faceva parte, secondo il mio fiuto, del gruppo che… non facciamo nomi, insomma, di un certo gruppo che aveva manipolazioni, raccomandazioni, l'edilizia, non edilizia e posi un vetto. Questo vetto non fu accettato e io non feci il sindaco. Poi c'è stata l'altra occasione che è stata quella con Morandini dove avrei dovuto fare il vice sindaco controllore di Morandini, eccetera, eccetera, è andata a buca anche quella morta là. Non avessi mai detto che Morandini è cambiato, perché aver detto che Morandini è cambiato è stata la mia rovina. Morandini non era cambiato e c'è stata eccetera. Però perché mi sarebbe piaciuto fare il sindaco? perché ho sempre sognato, forse a sproposito, che Arco doveva essere la Merano del Trentino, l'ho sempre sognato. Perché quando uno va a Merano e poi torna ad Arco si accorge che il clima di Merano non è quello reclamizzato, che quello di Arco è un clima molto migliore, ma purtroppo, cosa volete, Arco ha una sua disgrazia. Disgrazia è che Arco ha una forza centripeta, cioè non c'è una forza centripeta, cioè non c'è una forza dei paesi centralizzata con interessi che si portano sul centro. Ci sono degli interessi che portano all'esterno. Bolognano. Bolognano è Bolognano. Non che ne frega niente se il casino di Arco è bello o l'è brutto, perché Bolognano è Bolognano. Bolognano ha la posta, Bolognano ha la coppia, Bolognano è riuscito, ha la farmacia, Bolognano più in alto, mi ricordo il professor Maino che mi diceva sempre noi vi vediamo dall'alto in basso, Bolognano da certi punti vede anche il lago, ha la fortuna all'estate da averga anche l'ora e quindi a Bolognano. La parte di là che è Vigne, Varignano, è in diminuzione obiettivamente, ma anche loro vengono da un altro comune, l'interessa tutta una serie di cose che non hanno a che fare col casino eccetera eccetera eccetera. Allora quando sono arrivato ad Arco, io per la verità ho vissuto via, sono stato ad Arco nel 50. 1950, qual è stato il primo impatto? La pensilina della stazione delle Corriere. Io credo che quando morirò sulla lapide gli metterà la pensilina, perché sarà la mia epigrafe, la pensilina. Ma la pensilina è da 65 anni che mi batto perché la pensilina, ma tutte le volte mi viene risposto che bisogna fare un intervento globale, che bisogna intervenire, cosa? C'è stato un periodo addirittura che due imbecilli privati, Tamanini e Arcese, presi dal rompiballe della politica, hanno detto abbiamo preso un architetto, gli abbiamo fatto fare il progetto per ristrutturare la pensilina, 39 mila Euro, ho la documentazione ancora in mano, abbiamo scritto al grande manager Mattei, perché per combattere Tamanini corrotto insieme a Morandini, che non era cambiato, che cosa hanno fatto? Hanno risposto una lettera dicendo che loro dovevano fare un intervento globale per un milione di Euro, che non si poteva fare una cosetta separata perché era una perdita di denaro. E siamo a 63 anni da allora, adesso gli è 65, ne passa altri due e la pensilina è ancora lì. A me piacerebbe che il comitato che adesso sta raccogliendo le firme per le varie cose che non vanno in questo paese dei giardini si documentasse e andasse a vedere se varrebbe la pena anche di raccogliere le firme per levare quei due Cristi. Cristi sono le imprese ad operano da una determinata struttura per tenere in alto le impalcature quando si fanno lavoro, li chiamano Cristi. Bene, ci sono ancora i Cristi che hanno sostituito uno di quei sostegni in legno che ci sono nella pensilina da oltre 70 anni, li ha messi il Remo Angelini. Tanto è vero che io mi augurerei di fare assieme con la televisione che mi sta riprendendo in questo momento una bella manifestazione in onore dei 70 anni dei Cristi della stazione delle Corriere. Ci sentiamo la prossima volta.